Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Oggi parliamo dell'impero dopo Carlo Magno. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Abbiamo già parlato del grandissimo Carlo Magno in una lezione dove abbiamo cercato di parlare delle conquiste, dell'impero, dell'ammodernamento, della rinascita carolingia, naturalmente per sommi capi. Ma vi lascio qui per un ripasso, una rinfrescata, la video-lezione. Oggi vediamo che cosa succede dopo la morte di Carlo Magno, che muore nell'814. Carlo Magno lascia l'impero al figlio Ludovico il Pio, che resta in carica fino all'840. Ma poi c'è un problema, perché per anni l'eredità dei carolingi era stata ereditata da un unico erede, quindi Carlo Magno aveva lasciato Ludovico il Pio. Ma Ludovico il Pio ha tre figli, Carlo il Calvo, Ludovico il Germanico e Lotario. Cosa succede dunque? Che nell'842 d.C. Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico fanno un accordo, il cosiddetto giuramento di Strasburgo, che è anche importante dal punto di vista della letteratura, perché è bilingue. In questo accordo loro dicono, dichiarano, firmano che non si accorderanno con Lotario. Quindi di fatto Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo sono alleati contro il fratello, che un anno dopo, nell'843, è costretto a firmare il Trattato di Verdun. Con questo trattato di fatto il Grande Impero di Carlo Magno viene diviso in tre regni indipendenti. Quindi Carlo il Calvo ha il regno dei franchi occidentali, che corrisponde alla Galia, Lotario ha il titolo imperiale e vari territori, come la Lotaringia, la Borgogna, la Provenza e anche l'Italia settentrionale, mentre Ludovico il Germanico ha il regno dei franchi orientali, a est del Reno. Vedete qui le cartine, dove vedete i vari regni, quindi il regno di Carlo il Calvo, il regno di Lotario e il regno di Ludovico il Germanico. Di fatto, in Europa, il regno dei franchi occidentali coincide con la Francia, coinciderà più avanti con la Francia, e il regno dei franchi orientali con la Germania. Ricordiamoci che i franchi, lo abbiamo detto, sono una popolazione di origine germanica. Con questa suddivisione, l'impero carolingio ha fine, nonostante ci siano dei tentativi di riunificazione. Per esempio, nell'884, Carlo il Grosso, figlio di Ludovico il Germanico, tenta di riunificare l'impero e riesce a riunire, sotto il titolo imperiale, la corona di Francia, Germania e Italia. Però poi Carlo il Grosso verrà deposto. I normanni assedieranno Parigi, proprio due anni dopo, nell'886. Ma durante questo assedio, la città verrà salvata grazie al conte di Parigi, Odone. Pochi mesi dopo, Carlo il Grosso viene deposto proprio dai vassalli tedeschi e francesi, quindi l'impero carolingio, dopo un secolo, è tramontato. Ma vediamo come mai l'impero carolingio entra in crisi. Ci sono vari problemi. Innanzitutto, la questione dell'omaggio vassallatico. Perché? Inizialmente era solo per i sovrani, ma poi l'omaggio vassallatico viene ricevuto anche dalla nobiltà. E quindi la nobiltà si crea un proprio esercito, diventando sempre più potente. In più, c'è una pluralità di omaggi, perché per avere i feudi che fanno i vassalli, dicono beh, io presto giuramento a più signori. E i feudi diventano ereditari. Che cosa succede? Succede che con il capitolare di Crisì, i feudi grandi diventano ereditari. Attenzione, con il capitolare di Crisì di Carlo il Calvo diventano ereditari i grandi feudi. Nel 1037, con Corrado il Salico e la Costituzio de Feudis, diventano ereditari anche i feudi minori. Comunque, rimaniamo sul capitolare di Crisì. Di fatto, questo capitolare dell'877 prevede che il legame vassallatico diventi ereditario. Che cosa vuol dire? Che prima, vassallo e feudatario, nel momento in cui uno dei due moriva, veniva meno il legame vassallatico. Decadeva. Bene, ora non è più così. Per i grandi feudi il legame vassallatico si eredita. Questo, insieme all'omaggio vassallatico e alla pluralità degli omaggi, rende naturalmente in crisi. L'impero carolingio lo porterà alla fine. Perché? Perché c'è sempre più potere tra feudatari e vassalli, che addirittura ereditano il feudo. Come viene poi diviso l'impero carolingio? Di fatto, l'impero carolingio tramonta, abbiamo detto definitivamente, con Carlo il Grosso. E abbiamo in Oriente il trono dato ad Arnolfo di Carinzia. In Francia c'è Odone, Odone quindi colui che era riuscito a assedare la rivolta dei Normanni a Parigi, e che poi importa di fatto la deposizione di Carlo il Grosso. E il regno d'Italia è attribuito a Berengario del Friuli. In tutto ciò però l'Europa è sotto assedio. È sotto assedio a causa dei Saraceni, degli Ungari e dei Vichinghi. Nel IX secolo i Saraceni saccheggiano le coste della Francia e anche le coste italiane. Creano delle roccaforti sia nella zona della Francia, a Frassinetto, attuale Saint-Tropez, e anche in Italia, precisamente tra Lazio e Campania, nella zona del Garigliano. Dalla Pannonia, attuale Ungheria, partono gli Ungari. E vanno verso la Germania, verso la Francia e verso l'Italia settentrionale, come vedete dalla cartina. Hanno delle armature leggere, sono veloci rispetto agli eserciti europei, e quindi le loro migrazioni sono anche più rapide rispetto agli altri popoli. Però vengono sconfitti. Vengono sconfitti nel 955 da Ottone I di Sassonia, a Lekfeld. Quindi da quel momento diciamo che la minaccia degli Ungari non è eliminata, però perlomeno si riduce. Loro avranno un loro regno intorno all'anno 1000. L'ultima minaccia è caratterizzata dai Vichinghi, perché dalla Scandinavia arrivano i Normanni, no? Gli Uomini del Nord. Spesso noi Normanni li chiamiamo anche Vichinghi, gli Uomini delle Baie. Quindi Vichinghi e Normanni, di fatto, spesso vengono utilizzati come sinonimi. A bordo delle Drakkar, che sono delle navi dal fondo piatto, come vedete nell'immagine, navigano verso sud, soprattutto in cerca di bottino e anche di territori in cui stanziarsi. Raggiungeranno il Mediterraneo nell'860 e saccheggeranno Pisa. Ora i Vichinghi sono anche molto di moda per la serie Vikings, che naturalmente racconta dei Vichinghi che non sono del tutto attendibili storicamente. È una serie che ha un forte lato fantastico. Però va sempre bene vedere queste serie TV, questi film, per farci comunque un'idea o perlomeno per essere interessati poi ad approfondire. I Normanni o Vichinghi si stanziano lungo le coste e creano degli accampamenti stagionali, perché poi tornano in Scandinavia in autunno, perché altrimenti farebbe troppo freddo per ritornare. Alcuni insediamenti, come quello nella Francia settentrionale, diventano stabili. Ecco perché abbiamo una regione della Francia che si chiama Normandia, dei Normanni, dei Nordman, gli uomini del nord. Dove si stanziano dunque, abbiamo detto in Francia, in Inghilterra e in Russia. Nel 911, Rollone, che è un guerriero normanno, diventa duca. E quindi proprio la regione che occupo, come già vi anticipavo, viene chiamata Normandia. I Vichinghi si stanziano anche in Inghilterra, dove formano il Danlow, come vedete qui, in questa zona dell'Inghilterra, e poi in Rus. Abbiamo i Vareghi, che di fatto sono i vichinghi svedesi, che risalgono i fiumi e si inoltrano nella Russia, fondando quindi il Principato di Rus, da Ross, che significa navigatori. Dopo questa breve e sintetica lezione sulla situazione dopo la crisi, il tramonto dell'impero carolingio, vi lascio alla prossima video-lezione. Grazie.